Però dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale, che se una persona nei tuoi confronti manifesta un rifiuto oppure non ti vuole, per qualche motivo non ti vuole, certo che dipende anche dalle persone che incontri, ovviamente se incontri un pupazzo come il Papella nessuno può volerlo, però anche Papella ha diritto di esistenza. Dov'è Papella? Dov'è Papella?